Ciao ragazzi e benvenuti nell'ultima parte della recensione di tutti gli epici del gioco nel 2021. Ci mancavano le ultime quattro fazioni che sono Elfi Oscuri, Cavalieri Redi Vivi, Nani e Ombranti. Partiamo subito dagli Elfi iniziando da Temila. Temila ha dato rango Crypte, ha delle buone destrezze. Se la terza destrezza avesse avuto un tempo di ricarica di tre turni, anziché quattro turni con i tomi, sarebbe diventato un campione molto forte. E magari l'avrei classificata anche come rango utile. Però comunque non è male come campione, quindi in Crypte per aiutare il team sicuramente vi potrebbe dare una mano. Poi, prossimo campione, Kayden, rango utile. Rianima due campioni ogni quattro turni con la terza destrezza, il che lo rende veramente fortissimo in Crypte, ma può anche aiutare in vari roccaforti. Da qui il rango utile, mette anche il riduce attacco su tutti i nemici con la seconda destrezza, può anche provocare quella prima destrezza e ha delle buone statistiche difensive di vita e difesa. Quindi assolutamente rango utile. Poi, Keol lo scuro, anche lui il rango utile. Sebbene sia fortissimo contro il boss del clan e probabilmente anche qualche altra roccaforte tipo Drago o qualcosa del genere, e ovviamente anche in Crypte per i boss delle Crypte per tutti i vedeni che mette, mette anche questo bellissimo riduce attacco, però mi sembra un campione un po' mediocre in tutto il resto, quindi non si può meritare il rango di utilissimo, ma è comunque un campione molto utile. Poi, Ginnett, anche lei rango utile. Ha un attacco ad area sulla prima destrezza, sebbene abbia un moltiplicatore di danni un po' bassino. Poi non ha altri attacchi ad area, sebbene sia la seconda destrezza che la terza destrezza abbiano invece dei bei moltiplicatori sull'attacco. Ha molte potenzialità e sicuramente le si troverà un utilizzo. In futuro ancora, diciamo, non è riuscito a prenderla nessuno perché sarà disponibile presto per chi completerà tutte le stanze segrete della torre normale ogni mese, però secondo me qualche utilità gliela si potrà trovare. Poi, Ragno, Rango Crypt, Crypt barra utile diciamo. Non sembra, ma ha delle destrezze potenzialmente molto forti. Tipo questa potremmo paragonarla a quella di Dragomorfo, anche se diciamo sarebbero molti più tomi, e alla fine il tempo di ricarica è di 5 turni anziché 3 turni, quindi l'utilità del campione sta anche nei tempi di ricarica delle sue destrezze. La seconda destrezza può mettere un riduce attacco sui nemici, anche se non con un 100% di possibilità, però può anche ridurre la durata dei buff dei nemici. Diciamo che per Crypt lo potete tranquillamente usare, magari anche contro il Ragno, perché può usare quella strategia di shottare fino al Ragno 20, mettendo sia il riduce di difesa che l'indebolimento su tutti i nemici, e poi andando con una combinazione di Guardie Reali o Quark Glaciali per fare molto danno al boss e shottarlo nel giro di 2, 3, 4 turni al massimo, e quindi far fuori il boss nel giro di una ventina di secondi. A parte quello, magari può essere carino in qualche roccaforte, se non avete di meglio, però diciamo che è abbastanza sostituibile. Se avete già un riduce di difesa ogni 3 turni, un campione che mette riduce di difesa ogni 3 turni, è già molto meglio di mettere questi due debuff ogni 5 turni. Da qui, quindi il rango Crit. Poi, Ryan, la Magliosa, rango utile. Allora, intanto è fortissima in Crit, ma con la seconda destrezza potrebbe anche essere utile in Arena Squadre, perché può rimuovere i buff da tutti gli avversari e piazzare in debolimento. Diciamo che è paragonabile alla terza destrezza di Madame Serris, anche se è un po' meno forte, però comunque in Arena Squadre potrebbe trovare la sua utilità. Poi, Luria, rango Crit. Se la percentuale di congelare fosse diventata con i tomi il 100%, sarebbe stata più utile, soprattutto per Arena. E anche la terza destrezza, se avesse attaccato tutti i nemici, sarebbe stata molto più utile. Quindi diciamo, non mi piace, non mi piace come campione, però magari potrebbe aiutarvi lo stesso in Crit di Fazione. Poi, Cremisonte, rango utile. Beh, un tempo magari avrei detto soltanto rango Crypt. Anche lasciata a livello 50 in Crypt è veramente molto forte e resiste molto, però da qualche mese ha dimostrato di poter battere anche da sola Bommal, il boss della Torres Ventura, che è probabilmente il boss più problematico in assoluto. Quindi il rango di utile se lo merita davvero. Perché anche se non si hanno dei team con campioni assurdi, tipo Duchessa e company, lei può tranquillamente fare il lavoro da sola. Magari non riesce a farlo contro l'ultima fase della Torre Tosto, il boss 90 al 90, però comunque è un campione veramente, veramente fortissimo contro Bommal. Poi, Guardiano, rango pollo. Con tutti i tomi messi, magari sarebbe diventato un po' più forte, soprattutto in Crit, ma ha 19 tomi epici per renderlo, diciamo, utilizzabile in Crit, non consiglio di farlo a nessuno. Quindi pollizzatelo assolutamente. Poi, Delver, assolutamente pollo. Chierico, assolutamente pollo. Visionaria, pollo. Non riesco davvero a vedere l'utilità di questo campione e delle sue destrezze, quindi ci togliamo di mezzo anche questo. Lua, rango utile. Oltre che in Crit, può essere infatti molto buona sia in Arena per fare danni, sia con la seconda destrezza che con la terza destrezza, oppure in alcune roccaforti come contro Ragno e Cavaliere Pirico. Sia per il fatto che faccia dei danni ad Area, o comunque dei danni multipli anche con la prima destrezza, sia perché con la terza destrezza può azzerare il contatore di turno, che è molto utile, appunto, contro questi due boss. Quindi rango utile. Poi, Psylar. Rango utilissima, davvero fortissima, sia in Roccaforti, dove se tomate questa terza destrezza fa veramente, veramente faville. E con lei avevo fatto per la prima volta Ragno 20, con campioni così così, ma riducendo il contatore di turno dei ragnetti e anche la velocità anche del ragnone, avrete un vantaggio veramente, veramente grande. Poi, anche in Crit edifazione fantastica, e soprattutto in certi livelli molto complicati della torre e setventura tosto, portando un team che pensi soltanto al contatore di turno dei nemici, quindi a tenerlo basso, a rallentarli, eccetera, eccetera, e anche a provocarli, per non fargli mai usare le destrezze. Ci sono certi livelli che proprio che io con i miei campioni più forti non riuscivo a superare, soprattutto quelli dove ci sono dei campioni con delle destrezze che mettono il blocco rianimazione o cose del genere, dove Psylar mi ha veramente salvato la vita. Quindi assolutamente fortissima. Anche in Arena Squadre non è affatto male, sempre per questa terza destrezza. Poi, Madame Serris, utilissima, semplicemente uno degli epici in assoluto più forti del gioco. Nient'altro da dire. Passiamo adesso ai Cavalieri Redivivi e saltiamo i primi tre perché sono pollo, pollo, pollo e passiamo a Mostro Malcreato. Rango utilissimo. Un tempo era uno degli epici più forti del gioco. Ora, io praticamente non lo uso più da nessuna parte se non in cripte di fazione, ma per un giocatore che non è ancora in endgame cambia davvero il gioco ed è utilizzabile dappertutto. Dappertutto a parte magari i Bostel Clan e Arena, dove c'è molto di meglio, però è un campione veramente, veramente forte. Poi, Farsalas, rango cripte, è un campione mediocre che magari può dare un minimo di aiuto con questa terza destrezza, ma c'è veramente molto di meglio, altrimenti se non lo usate neanche in cripte, pollizzatelo perché veramente non ne vale la pena. Poi, Sinesha, rango utile, sicuramente meravigliosa in cripte di fazione, soprattutto se con un set stordimento, un set derisione, proprio perché attacca tutti i nemici. Viene anche usata nei team Blender, in arena per fare molto, molto danno, sempre attaccando con questa prima destrezza. Sinesha ha dei moltiplicatori sull'attacco davvero stellari, anche se parte con un attacco un po' basso. Se le date molto, molto, molto attacco farà dei danni incredibili. Però anche nelle roccaforti sicuramente potrebbe tornare utile. Poi, Sventura, rango utilissima. Man mano che aggiungono modalità di gioco, si continuano sempre di più a scoprire dei posti dove Sventura può davvero salvarti la faccia solo e soltanto grazie alla sua passiva che è meravigliosa. Anche senza Tomy, non usate Sventura con i Tomy, potete addirittura anche disattivare questa seconda destrezza se non vi interessa. L'importante è che si prenda tanti turni e quindi che usi la passiva sempre, sempre di più. È fortissima anche contro certi boss della torre Sventura, vedi per esempio i due ragni, il ragno glaciale e il ragno abissale, anche contro il grifone potrebbe dire la sua o per esempio nella recente aggiunta dell'Hydra dove rimuovere i debuff a volte può essere una delle cose più forti che si possano fare. Sentinella Tombale, anche lei rango utilissima, ha bisogno di un po' di Tomy, devo dire la verità, ma è uno degli apici più forti con cui abbia mai giocato in passato, soprattutto forte contro il boss del clan, ma anche in roccaforti, critica di fazione e torre Sventura. Poi, Rettrice, altro rango utilissimo, è praticamente una mini duchessa con la sua abilità di velare e rianimare i campioni, può addirittura anche ridurre l'attacco che contro certi boss è veramente fondamentale per subire quindi danni in meno e cura anche gli alleati, è un campione veramente fortissimo e si è dimostrata veramente fortissima, soprattutto contro l'Hydra di recente. Poi, Tilesia, rango utile, un riduci difesa che non ha bisogno di Tommy per avere una possibilità del 100% di essere piazzato è sempre ben accetto, soprattutto in crit dove noi fatichiamo a fare molti danni ad aria in questa fazione. In più, può riuscire a mettere malocchio con la passiva il che la rende molto utile soprattutto in combo con altri campioni che fanno qualcosa di particolare se i nemici hanno già malocchio. Un altro, per esempio, recente utilizzo è quello di usarla contro la testa della malizia dell'Hydra in combo con altri campioni tipo Ruel che possano fare qualcosa con malocchio. Poi, imperitura pollo, kitis pollo, bergot diciamo cripte barra pollo, non mi è mai piaciuto come campione, ma so che c'è chi l'ha usato per superare le stanze segrete della torre tosto dove è possibile utilizzare soltanto campioni HP quindi magari qualcuno un utilizzo ce lo trova. Poi, pestilus devo dire rango crit l'anno scorso credo di avergli dato rango utile il fatto che è forte soltanto contro il ragno glaciale della torre perché in tutto il resto ormai viene tranquillamente superato in utilità da Mordecai che è un altro epico che mette brucio HP però su tutti i nemici quindi diciamo che non mi sento di dargli più di rango crit cioè non perché sia forte in crit ma perché sia forte soltanto contro quel boss specifico della torre. Poi, Anonymous anche lui rango crit è molto forte in crit soprattutto per superare l'ultimo boss delle crit di fazione potrebbe magari fare dei bei danni in arena a target singolo con questa terza destrezza però diciamo che da quando è uscito Rotos sinceramente è molto meglio Rotos ok che quello è un leggendario però comunque più di rango crit non credo di riuscire a volergli dare. Poi, cranio corona rango utilissima molto forte in arena forse il miglior nuker epico il miglior campione epico che riesca a fare danni in arena e può aiutare molto sia in crit di fazione che magari anche nelle roccaforti anche se magari non quelle dalla 21 alla 25 però comunque molto forte anche nelle roccaforti. Poi, finiamo con Mietitrice rango crit un campione decente non fortissimo ma comunque si potrà millamente usare in crit e Sussurro anche lei rango crit diciamo che è molto facilmente rimpiazzabile in tutto il resto per usarla molto bene bisognerebbe metterle un set implacabile che però non tutti hanno la possibilità di avere dico forte con delle belle sottostadistiche e comunque diciamo che è un campione da crit e facilmente rimpiazzabile in tutto il resto. Passiamo dunque ai nani e partiamo da Yarli il frignante a cui ho dato rango utile ha delle buone destrezze non sono magari il massimo ma può aiutare anche cioè oltre alle crit anche nelle roccaforti e contro il boss del clan sebbene non ad altissimi livelli però comunque le sue destrezze sono abbastanza utili contro il boss del clan Coneglia rango crit magari può essere buona anche oltre le crit se non avete granché come campioni però soltanto che dalle destrezze non vedo grandissime potenzialità per questo campione quindi al momento le diamo rango crit poi sergente rango utile fortissima sicuramente in crit di fazione ma può anche tranquillamente essere usata sia nelle roccaforti che contro il boss del clan perché mette sia riduce difesa che riduce attacco che sono ottimi contro il boss del clan che anche la protezione alleato ogni tre turni che è veramente una destrezza molto molto forte poi passiamo a geomante rango utilissimo veramente fortissimo contro il boss del clan ma può anche essere usato anche nelle roccaforti nelle crit di fazione e in realtà l'ho visto anche usato contro certi boss sia della torre che contro l'hydra quindi tramite questo brucio hp e la passiva può riuscire a fare dei danni veramente assurdi ai boss quindi usatelo perché ne vale assolutamente la pena schiaccia sassi rango crit mi ha aiutato a finire le crit anche a livello 50 quindi non c'è bisogno di portarlo al 60 e se non avete un provocatore per arena perché magari siete dei nuovi giocatori volete raggiungere ranghi come per esempio oro 1 lui potrebbe fare tranquillamente al caso vostro basta dargli questi tomi sulla seconda destrezza per rendere questa possibilità di provocare al 100% poi melga rango utile sicuramente fortissima in cripte perché c'è questa possibilità di rianimare due alleati ogni 5 turni perché se non avete moli la vostra possibilità di rianimare nella fazione dei nani è veramente pari a 0 quindi melga è fortissimo in cripte e al di là delle cripte è un po' rimpiazzabile ma se comunque siete dei giocatori non veterani magari può servirvi in qualche roccaforte soprattutto buildate in set scudo perché ha molta molta vita e perché cura in base alla propria vita e con molta molta velocità poi poi fodbor poi podbor no al contrario rango utile molto bello il riduce difesa per le cripte di fazione anche se diciamo l'ho anche specificato per le cripte di fazione perché comunque lo può fare al massimo ogni 4 turni anche con i tomi ci sono molti campioni ormai che lo fanno ogni 3 turni quindi diciamo per le cripte va bene comunque però magari se faticati in roccaforti può essere un buon campione anche per roccaforti perché ha questa destrezza dove può addirittura stordire un nemico al limite sottrargli dei buff nel caso in cui sia qualche boss particolare e magari potrebbe appunto esservi utile anche contro il cavallo di ripirico visto che con la prima destrezza attacca per 3 volte poi Dazdurk rango cripte può essere molto carino per rimuovere dei buff e per curare con questa terza destrezza al di là di quello un po' meh diciamo non il massimo quindi diciamo rango cripte poi Berdal mazza letale rango pollo ce lo togliamo subito di mezzo Gala rango cripte in cripte è veramente veramente fortissima e prima che arrivasse Rotos faceva dei bei danni anche a target singolo nell'arena quindi al momento diciamo soltanto cripte di fazione poi anche Rugnor rango cripte io l'ho usato nelle cripte di fazione fino all'ultimo boss per avere sia il reduce difesa che l'indebolimento per fare quindi più danno oltre a quello non è male se non avete dragomorph ma volete fare le speedrun su ragno 20 come per esempio prima vi dicevo la stessa cosa di ragno può funzionare allo stesso modo quindi diciamo rango cripte ecco poi finiamo i nani con Deimita rango utilissima e meravigliosa contro il boss del clan soprattutto per questa destrezza perché si usa in un particolare team inammazzabile che può anche superare i 70 milioni contro Ultra Incubo ma le sue destrezze comunque risultano essere molto utili anche in tutto il resto quindi usatela dappertutto che è veramente veramente fortissima e finiamo questa serie di video parlando degli ombranti partiamo da Toraggi a cui ho dato rango utilissimo fantastico campione contro il boss del clan ma anche utilissimo in tutto il resto sia per come protegge il team con la terza destrezza sia per come impedisce ai nemici di farci del male riducendosi all'attacco che anche provocandoli quindi veramente veramente un campione pazzesco poi passiamo a Otatsu rango utile è fortissimo nelle cripte di fazione secondo me però potrebbe aiutare anche in tutto il resto compreso per esempio il boss del clan se uno ci pensa le sue abilità sembrano essere molto forti perché con questa aumenta la difesa ogni tre turni con questa riduce l'attacco dove questa qua ogni tre turni sempre con una buona percentuale e in più con la prima destrezza potrebbe anche mettere Sanguisuga quindi potremmo anche buildare il team dimenticandoci del set rubavita e quindi curandoci attaccando molto molto carino come campione poi Chani rango cripte stesso discorso di Pestilus cioè lei ha una sola destrezza forte contro il ragno glaciale questa qua e anzi si aumenta sia la precisione molto importante se ricordate contro quel boss e sia piazza questo brucia HP ogni tre turni quindi contro quel boss veramente veramente fortissima in tutto il resto se avete di meglio diciamo lei è facilmente rimpiazzabile quindi rango cripte per questo motivo poi Ume Toji rango pollo veramente un anzi dire pollissimo un campione veramente tanto tanto inutile passiamo a Sachi a cui ho dato rango cripte nel senso che l'unica utilità che vedo in lei è forse contro il ragno cioè lei attacca tutti i nemici per la prima destrezza però è un campione assistenza quindi non fa tantissimo danno poi i moltiplicatori sull'attacco sono pure veramente bassi quindi diciamo non portatela contro il ragno per fare danno bensì magari con un set stordimento per stordire i vari ragnetti la passiva sembra molto utile nel caso lei uccidesse un campione un ragnetto tipo perché ce ne sono tanti uno almeno lo ucciderà anche se non è buildata per fare danni e quindi per riportare in vita qualche campione se non avete un rianimatore migliore a parte quello non la trovo neanche utile in cripte forse o forse con un set stordimento in cripte potrebbe andare quindi comunque rango cripte poi anche fenshi rango cripte il problema di fenshi è che attacca un nemico attacca un nemico attacca un nemico è un campione di tipo attacco dove lo usiamo però lo potremmo usare contro cavali di repirico perché ha molti attacchi perfetti contro cavali di repirico nel senso attacco un nemico tre volte e riduce la difesa che è molto forte contro repirico attacco un nemico tre volte e riduce il contatore di turno è veramente un campione perfetto contro cavali di repirico può anche mettere dei veleni in tutto il resto un po' così così quindi direi rango cripte poi passiamo a Burangiri rango utile è un po' il discorso fatto per cremisonte diciamo è forte sì contro bombal e praticamente basta possiamo usare in cripte tranquillamente però è molto molto forte contro bombal nel senso che come cremisonte può anche farsi il boss da solo con un buon set rigenerazione tanta vita velocità resistenza eccetera eccetera può essere un campione veramente forte però appunto diciamo noi gli diamo rango cripte ma il rango utile se lo merita tantissimo poi chonoru rango cripte molto forte secondo me contro ragno perché lei con la terza destrezza la potrebbe usare a ripetizione perché ogni volta che uccide un ragnetto è un campione tipo attacco quindi danni li può fare ha anche un attacco di base stratosferico per essere un epico ogni volta che uccide un ragnetto si riduce di 1 il tempo di ricarica di questa destrezza quindi supponiamo che le diamo i tomi quindi 3 turni di tempo di ricarica se uccide 3 ragnetti può resettare direttamente il tempo di ricarica di questa destrezza quindi usarlo ogni turno attaccare tutti i nemici per la terza destrezza ogni volta e fare quindi molti danni ai ragnetti a parte quello lo trovo un campione abbastanza inutile poi ha pochissima vita quindi magari è molto forte in battaglie brevi perché ha molto attacco e poca vita più si allungano le battaglie ovviamente più lei rischia di morire forse in arena potrebbe essere utilizzabile se non siete ad altissimi livelli a parte quello diciamo crit e basta poi passiamo a Gori anche lui il rango crit diciamo non più di quello se nella seconda destrezza avesse avuto un attacco a tutti i nemici anziché 3 volte a caso sarebbe stato un campione molto più forte però diciamo è così e ce lo teniamo così per crit e niente più poi giurojin rango pollo non ha attacchi ad aria è un campione che vorrebbe fare danno ma non ha attacchi ad aria provoca un solo nemico con la seconda destrezza mi sembra praticamente Sercranio Vargalli in miniatura quindi assolutamente rango pollo poi non so perché sono uscito Masamoto rango critte se non avesse avuto questo riduce attacco sulla seconda destrezza gli avrei dato rango pollo diciamo che con questa magari si salva lo potete usare in critte però diciamo è un campione abbastanza inutile Oboro rango utile è molto forte in critte secondo me soprattutto per questa possibilità di attaccare tutti i nemici e di mettere anche il riduce difesa con la prima destrezza ha anche delle buone destrezze con la terza con la seconda e la terza anche se può attaccare soltanto un nemico magari può servire in qualche roccaforte magari anche contro qualche testa dell'idra perché ha delle belle destrezze che fanno tanti danni ad un singolo bersaglio quindi chissà al momento rango utile poi passiamo all'ultimo campione Gembo Gembo non so bene come si pronunci rango utile è un nuker fortissimo per l'arena fa dei bei danni ma soprattutto può ignorare l'inammazzabile dei campioni nemici il che lo rende molto utile contro certi particolari campioni come per esempio Cranio Corona Leorius che si sta vedendo veramente tanto ultimamente e soprattutto ad alti livelli dell'arena e per esempio anche contro coloro che hanno il set parata repentina veramente fortissimo come epico in arena ah e dimenticavo ancora Taia ultimo campione diciamo rango utile barra critte non so ancora per cosa magari potremo usarle in futuro c'è questa destrezza che sembra molto molto particolare dove attacco nemico e può attivare tutti i veleni tutti i bruci HP sull'obiettivo quindi magari qualche strategia non utilizzabile ad altissimi livelli perché i boss di altissimi livelli tipo delle roccaforti della torre sventura e anche le teste dell'idra possono subire al massimo il 10% della loro vita come danni quindi le strategie di far esplodere i veleni e i bruci HP non funzionano tanto bene quanto funzionavano prima però magari da qualche parte si potrebbe comunque utilizzare questo campione vedo delle buone potenzialità il problema che ha poca vita difesa non altissima anche se comunque è un campione tipo attacco non possiamo aspettarci molto dalla difesa la vita è un po' bassa l'attacco va bene però non lo so direi crit barra utile magari volendo essere buoni bene ragazzi abbiamo quindi finito anche quest'ultima parte della recensione degli epici del 2021 la rifaremo sicuramente a metà del 2022 quando usciranno nuovi campioni magari nuove modalità di gioco in cui potremmo dire ah questo campione magari era forte in questa nuova modalità che prima non c'era e quindi magari cambieranno un po' anche queste recensioni e quindi noi ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video o alla prossima live ciao ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti